Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e bentornati in questo nuovo video. L'argomento di oggi, ragazzi, è molto delicato, riguarda più che altro i creator, che sostanzialmente lavorano sulle piattaforme, non parlo solo di YouTube, ma in genere dappertutto. Vorrei focalizzarmi sul freebooting, su un'esperienza che è accaduta recentemente a me, riguardo a questo tipo di fenomeno che si sta capillarizzando, si sta espandendo praticamente ovunque. Sappiamo come questa è una piaga per la piattaforma stessa, perché va sostanzialmente a circoscrivere, a vincolare molti creator che si ritrovano coi contenuti copiati. Detto in parole povere, per chi non lo sapesse, il freebooting non è altro che l'atto di utilizzare del materiale altrui, quindi un utente che utilizza del materiale di un altro, spacciandolo per proprio. Quindi una vera e propria violazione dei diritti di copyright. E questo non vale soltanto per i video, ma anche per le immagini, le canzoni, e questa cosa la sapete benissimo, no? Sappiamo come spesso i creator si ritrovano a dover far fronte ad alcuni contesti abbastanza stucchevoli legati alle dinamiche sui diritti d'autore. E questo è l'esempio lampante, perché ragazzi, che possa essere un suono, piuttosto che una musica, piuttosto che un video, piuttosto che un'immagine, si tratta comunque di materiale che di fatto è protetto da dei diritti. I diritti d'autore, o comunque il copyright, si genera automaticamente nel momento in cui di fatto viene concretizzato un prodotto. Quindi si ha un risultato finale che viene divulgato e condiviso, e con questo risultato, con questo prodotto, di fatto, ne detiene le veci colui che lo ha realizzato. Quindi io, creatore di una canzone, ho realizzato questo mio pezzo, questo mio brano, ne detengo i diritti. Così come può essere per un video o anche per un'immagine. Questo per dire cosa, ragazzi? Tutta questa tiritera, tutto questo preambolo, per raccontarvi una vicenda che mi è successa praticamente adesso, recentemente, no? Che riguarda sostanzialmente un'immagine di copertina. Come ben sapete, io per quanto riguarda YouTube, ci tengo molto alle immagini di copertina. Ci tengo che abbiano un certo ordine schematico, al fine che siano molto belle da vedere, abbiano un impatto visivo molto professionale, accattivante. Per l'appunto, circa un anno fa, uscì in commercio una nuova bevanda di Red Bull, una nuova Energy Drink, ed era stata concepita per le stagioni estive, quindi si trattava di una Summer Edition, al gusto di Dragon Fruit, che non appena ebbi l'occasione di acquistare, decisi subito di recensirla. E come immagine del video, utilizzai questa copertina qui che vi metto in sovrimpressione. Ebbene, sfogliando tra le varie pagine di YouTube e facendo delle ricerche, mi compare questo video, che è un'immagine di copertina molto familiare. A quel punto, guardandola attentamente, non solo capisco che praticamente è la mia copiata e incollata su quel video. Ci ha semplicemente aggiunto come delle modifiche apportate una foto e due scritte. Quindi sostanzialmente il risultato è questo qui. Vi metto le due copertine a confronto e capite, anzi ditemi voi, se non sono uguali. Cosa succede ragazzi? Il punto qual è? Il punto è che se voi digitate sulla barra di ricerca di un qualsiasi browser, quindi se andate su Google, su Chrome e digitate, che ne so, Red Bull Summer Edition, vi compaiono dei risultati, no? Tra questi risultati vengono indicizzati anche quelli che sono i video di YouTube. In questo caso quindi con un'illustrazione principale, che è l'immagine della copertina. Ma sta di fatto che se voi andate a cliccare sull'immagine, in basso vi compaiono tutte quelle che sono le informazioni, i dati, tra cui colui che ha creato il video. Compare il nome del canale, la descrizione dello stesso canale, il minutaggio e quant'altro. Quindi sostanzialmente, una volta premuto sull'immagine, quell'immagine è poi correlata al video di qualcun altro, di un utente, di un creator. Quindi non esiste questa scusa, perché è vero che l'immagine è reperibile su Google. Però una volta premuto, si hanno tutte le informazioni necessarie. Molti di voi mi diranno, Matuccio, te la prendi per una copertina? La risposta, ragazzi, è sì. Perché nel concreto, io per realizzare una copertina fatta bene, ci impiego un quarto d'ora, venti minuti. Per revisionare tutta la playlist di Red Bull, perché ragazzi, lo sapete, esiste una playlist intera, ho impiegato una mattinata. Quindi nel concreto, uno investe del tempo, ma talvolta anche delle risorse, perché dovete sapere che i programmi per editare, quelle che sono le immagini, piuttosto che gli oggetti grafici, spesso possiedono delle funzionalità che di fatto hanno un costo. Quindi nel concreto, io utilizzo Canva, no, per realizzare le mie copertine, che è un software per dispositivi mobili ed è anche molto comodo quando non posso editare a casa. Però sta di fatto che nel concreto richiede del tempo, richiede delle risorse, richiede delle energie, e richiede del lavoro, star lì, prendere i vari oggetti grafici, togliere lo sfondo. Cioè bisogna proprio stare lì a dedicarsi, a improntarsi sul realizzare il contenuto. E vederselo copiato, incollato, aggiungendoci magari solo due scritte, non ha il minimo senso. Perché uno si può giustificare dicendo «Eh no, Mattuccio, ho apportato qualche piccola modifica, ho aggiunto qualche scritto, ho aggiunto un'immagine». No, ragazzi, perché vi faccio un esempio proprio lampante, in modo tale che sia chiaro. Cioè se voi prendete, fate un compito in classe, un vostro compagno lo fotocopia, ci cambia il nome, cambia che ne so la data, due scritte, e poi lo consegna e prende il vostro stesso voto, capite che non ha tanto senso, perché poi i risultati sono quelli. Alla fin fine però il 90%, anzi anche di più il 95-98% del lavoro l'avete fatto voi, mentre l'altro lo ha semplicemente copiato e incollato. Quindi proprio veramente una cosa allucinante. Io non me la prendo tanto per la copertina, perché ragazzi, se me l'avesse chiesta, io l'avrei fatta pure utilizzare per il suo video, non è un problema. Però il gesto è proprio che non accetto, il prendere la mia copertina, scaricarla e utilizzarla in un video. Cioè è questo, perché io ragazzi, ci prego tanto tempo. Io per arrivare a questo ordine schematico dei video, ci dedico del tempo. Sapete che faccio degli aggiornamenti costanti per la grafica del canale, perché ci tengo che sia bella. Questo lo ribadisco. E qui veramente mi va a toccare proprio nel profondo, perché è una cosa importante per me. Ed è vero che è solo una copertina, è un oggetto grafico, però è una cosa che ho dedicato con del tempo, con delle risorse. Quindi ragazzi, trovarselo proprio così, copiato e incollato, non è una cosa bella. Adesso io ho scritto un commento sotto il video di questa persona, però dubito che mi risponderà, perché non l'ha già affatto ancora. Se vuole farlo, ci sono sotto i commenti in questo video, sarà liberissimo di farlo. Comunque io dico questo, non è corretto prendere le immagini altrui e utilizzarle nei propri contenuti. Perché ragazzi, un conto per dire se uno, che ne so, fa il remix di una canzone, la riedita da zero, è un altro discorso. Ma vi faccio un esempio banale, se adesso io in questo video prendessi una canzone dei Linkin Park, esempio banalissimo, e ce la piazzassi qui, tra due secondi mi arriva un copyright strike che mi chiudono tutto. Quindi, per farvi capire ragazzi, il discorso è quello. Bisogna fare attenzione, però non ci vuole Mago Merlino, perché di fatto i motori di ricerca ci forniscono le informazioni riguardo la provenienza di immagini, ed è pure specificato se sono di dominio pubblico oppure appartengono a qualcuno, ma anche se non fosse menzionato. Ripeto, esistono delle informazioni, esiste un nome utente caricato da, a quest'ora, questo minutaggio, cioè c'è tutto ciò che vi serve per capire se quell'immagine appartiene a qualcuno. Quindi che dire, detto ciò, io concludo qui il video, non ho nient'altro da dire, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!